è bello perché quasi improvvisa un po c'è un canovaccio ma poi si improvvisa come è bello per ogni spettacolo teatrale abbiamo il nostro spirito guida Dino Mascia teatrante appassionato d'arte l'ospite Walter Malosti attore e regista la rubrica l'arte ci parla buongiorno a tutti abbiamo un quarto d'ora più o meno di tempo ti lascio il timone del comando Dino va bene allora io innanzitutto ringrazio Walter Malosti per la disponibilità di essere qui oggi con noi stiamo parlando di uno dei registi e autori più importanti del panorama piemontese italiano e nonché direttore della scuola per attori del teatro stabile di Torino io volevo volevo chiedere subito visto che stiamo parlando di un grande teatrante di di parlare un attimo della sua ultima e le sue ultime la sua ultima produzione che cosa breve vedremo a Torino anche a Asti ho sentito in questi giorni siamo in scena alla cavallerizza al maneggio che è uno spazio tra l'altro splendido di Torino ora un pochino in disarmo ma insomma penso che sia uno dei posti più belli del centro di Torino affacciato sui giardini reali dentro ci sono una serie di piccoli teatri e questo maneggio che una volta era appunto il posto in cui diciamo i cavalli si sfrenavano nei loro esercizi ora è uno spazio teatrale molto interessante in cui i ragazzi dell'ultimo anno che sono diplomati da pochissimo fanno il sogno di notte e mezz'estate con la mia regia sono 20 attori che si affacciano alla professione abbiamo fatto questa diciamo utopia abbiamo cercato di renderli professionisti con questo ultimo lavoro prima di mandarli dentro diciamo la la bufera del del mondo del lavoro giovanile e di scatenarli nella rissa diciamo quei loro coetanei è un lavoro molto interessante perché è fatto praticamente di nulla sono solo loro con i loro corpi le loro voci è uno spettacolo che ha a che fare anche col teatro musicale sono 20 numeri musicali anche con le musiche originali di Bruno De Franceschi le scene sono essenziali ma non è importante la cosa importante è che queste 20 persone sono sono messe in gioco ognuna con il loro mistero con il loro eros in qualche modo e ci danno conto di questa storia che è una storia ormai diciamo che da moltissimi secoli che viene raccontata e riraccontata ma che ci tocca ancora molto da vicino specialmente se fatta appunto da attori che hanno a che fare con l'età dei personaggi rappresentati insomma il sogno è una storia di giovani molto interessante perché appunto ormai se n'è un po' persa diciamo l'origine in qualche modo che è un'origine misteriosa una sorta di iniziazione alla vita sentimentale e anche sessuale e invece poi insomma con romanticismo diciamo nell'ottocento tutto sia un pochino edulcorato per cui questa storia è diventata una storia di fate. Devo rileggerla questa opera di Shakespeare oppure andare a vedere lo spettacolo? Direi di sì anche perché le fate in realtà sarebbero maschi nel testo originale insomma c'è un mondo come tutto il mondo in qualche modo shakespeariano è il mondo del inizio del 600 e della fine del 500 in cui diciamo che i generi adesso va molto di modo questa cosa di genere insomma già allora era tutto un pochino più ambiguo e anche in qualche modo più possibile ecco ecco in questa possibilità in più si innesta l'idea del sogno per cui oltre allo scatenamento in qualche modo derivante dalla gioventù dei protagonisti c'è anche l'idea poi del sogno che in qualche modo li sfrena e dentro la notte accadono diverse cose gli accoppiamenti insomma diventano vari ed eventuali. Sì sì lo devo rileggere. Tanto noi abbiamo visto un po' di foto alcune proprio di tante delle opere di Walter Malosti abbiamo visto un po' ci sono tantissime foto che potremmo far vedere. Io quello che volevo chiedere infatti a Malosti e visto che stiamo parlando di teatro nella sua poetica l'importanza come ci ha appena detto della musica delle luci in questo grande unicum teatrale io Malosti lo stimo molto perché quando parliamo di teatro moderno e contemporaneo non bisogna non bisogna dimenticare che il moderno e il contemporaneo si deve saldare su una grande base una grande base tecnica perché così come i grandi pittori di cui io di solito ho studiato di più anche gli astrattisti più estremi partivano dalla realtà e dalla base tecnica fondamentale. Malosti sa abbinare una grande base tecnica con una grande innovazione e in più è veramente un unicum teatrale dove musica, luci e recitazione vanno di pari passo e la mancanza di uno di questi elementi sarebbe disastrosa perché sono... Walter lei conferma? è lo spettacolo insomma in qualche modo penso che l'idea di spettacolo sia un'idea complessa che poi deve essere semplice per chi la guarda sono molto attento alla parte in qualche modo legata alla comunicazione specialmente negli ultimi anni in qualche modo io arrivo da un settore che viene definito sperimentale ma in realtà ho utilizzato queste tecniche tra virgolette appunto sperimentali per innestarmi su una grande tradizione italiana che fa parte di quel grande patrimonio che accomuna in qualche modo anche i beni culturali che noi abbiamo a disposizione e in questi c'è anche sicuramente l'arte dell'attore e in particolare il melodramma perché è la nostra grande chance di esportazione nel settore in qualche modo dello spettacolo dal vivo. Non bisogna dimenticarsene quando si lavora in teatro, questo facilita moltissimo la comunicazione perché la comunicazione avviene come ben sapete a diversi livelli quindi magari che ne so un senso viene dato anche soltanto attraverso un gesto oppure attraverso una nota musicale non è soltanto nelle parole la forza del teatro d'altra parte gli antichi lo sappiamo bene probabilmente cantavano il testo ed erano addirittura quasi senza volto. E così come chiedevo ho chiesto nella prima puntata Guido Maria Guida sulla questione della musica orchestrale adesso come versa l'Italia così chiedo a Malosti come versa attualmente il teatro italiano? Versa, versa sangue. Che fa? Ride per non piange? No vabbè ma anche questo si dice addirittura nel sogno c'è un certo punto Egeo quando alla fine arriva per proporre gli spettacoli al Duca gli dice tra i titoli che propone c'è le nove muse piangono la morte di cultura ridotta in miseria per cui insomma siamo nel 1595 mi sembra che è da tanto che si piange che siamo questa diciamo che tutti il potere è sempre stato abbastanza disattento nei confronti della cultura soprattutto perché in qualche modo a volte può dar fastidio ecco tranne alcuni casi illuminati insomma. D'altra parte non avremmo oggi i capolavori che abbiamo se qualche contemporaneo che ne so di Michelangelo non gli avessi commissionato le opere che adesso tutti ci invidiano quindi bisogna in qualche modo fare, c'è un doppio cammino da perseguire da una parte la grande attenzione al patrimonio appunto che abbiamo che è straordinario dall'altra invece queste case poi come si sa bene vanno abitate anche in un grande castello se non ci metti la luce e l'iscaldamento d'inverno ti geli. Tornando a Shakespeare per esempio l'opera lirica ha letteralmente saccheggiato Shakespeare per i propri libretti verdi con Otello, Falstaff, Macbeth, Mendelssohn insomma chiunque anche più nel novecento Berstein con West Side Story e proprio su questo mi volevo ricollegare uno spettacolo di Walter Malosti di recente è andato in scena al teatro Gobetti, Venere e Adone che è un poema. Ma sì di quella è una sfida nel senso che è un piccolo spettacolo. Erano due belle Venere e Adone perché di solito quando uno si dice ah sei un Adone è uno filo. Io naturalmente non facevo Adone come si vede come gli spettatori possono... Un tipo no? Un tipo, Adone è un tipo. Comunque c'era anche Adone quindi insomma possono stare... Io facevo Venere quindi attenzione attenzione. E' un poemetto che Shakespeare scrive durante la peste che c'era a Londra nel 1593 sono due poemetti gemelli questo è lo stupro di Lucrezia anche da questo è un attratto delle opere interessanti ad esempio Britain e dentro questi poemetti c'è tutta la poetica shakespeariana ed è molto interessante c'è un'utopia in qualche modo in cui la lingua diventa universo ed è svincolata dalle logiche drammaturgiche del teatro quindi diventa potentissima. Questo spettacolo tra l'altro è un long seller perché è dal 2007 che lo faccio ed è stato anche in tutto il mondo ed è la dimostrazione che non necessariamente bisogna fare un testo in qualche modo famoso per poter in qualche modo girare per poter piacere in qualche modo al pubblico che il pubblico in genere è molto più intelligente e disponibile di quello che si pensa mentre il problema grosso sono gli organizzatori che pensano che insomma la gente sia... anche le persone più comuni, più semplici possono capire la poesia di Shakespeare. Questo lo dico senza ombra di dubbio perché in alcuni dei teatri stabili in cui siamo stati ospitati è stato uno degli spettacoli preferiti della stagione nonostante appunto l'apparenza, insomma un organizzatore non lo comprerebbe mai sentendo il titolo Venere e Adone, insomma. Invece ha un suo appeal e la poesia colpisce comunque al cuore la gente di tutte le estrazioni sociali, se si lascia in qualche modo andare. Il teatro è l'arte dell'incontro per eccellenza, è l'unica arte che è rimasta in qualche modo in cui direttamente delle persone si incontrano, quindi quando sei a teatro senti quasi l'odore delle persone che stanno sul palcoscenico, li puoi guardare in faccia. Questo tra l'altro accade, faccio solo un breve inciso, questa sera Asti è l'ultima replica di Senso da una novella di Camillo Boito in cui l'azione la faccio svolgere in questo archivio storico che c'è al comune di Asti, sono 40 persone che stanno intorno all'attrice, quindi insomma viaggio da spettacoli in cui appunto come quell'ultimo con la Solarino, Signorina Giulia ha girato i più grandi teatri italiani, a spettacoli piccoli e credo che l'arte sia un po' questa, è molto varia, bisogna adattarsi a diverse esigenze, ma il tutto deve in qualche modo toccare direttamente il cuore di chi ascolta e di chi guarda. Quindi l'essenzialità deve essere una scelta e non una amara necessità? Sì, certo, ovviamente sì, d'altra parte abbiamo visto che solo le parole che abbiamo a disposizione nei testi di Shakespeare bastano e avanzano per poter fare teatro. Siamo quasi agli sgoccioli, è solo per una questione di tempo, prego Dino. Io un'altra, nel versatilità di Walter Malosti, ho spulciato anche una produzione che non so se è stata ripetuta molte volte, ma di cui ne ho sentito parlare benissimo, che è Nice e Ceomo, quindi un incontro con la filosofia, poi Nice a Torino, per Torino è stato... Sì, beh, importantissimo, e quello è un altro spettacolo curioso perché era rappresentato in un tavolo per 14 persone, una sorta di cena filosofica, però su questo tavolo poi accadevano diverse cose, c'era una danzatrice che faceva la Carmen addirittura, e anche quello è uno spettacolo molto interessante per il pubblico, era anche un'installazione d'arte visiva costruita insieme a Marzia Migliora, che è un'artista visiva importante di Torino, che anche lei espone in tutto il mondo, e quindi metteva insieme musica, tutte le musiche che hanno ispirato Nice, Torino, perché l'abbiamo fatto poi anche tra le altre location, oltre a Spoleto e a vari luoghi d'Italia, a Palazzo Madama, perché Nice negli ultimi anni pensava di essere il proprietario di quel palazzo, il mio palazzo, ero rimasto ai suoi caffè, addirittura aveva il suo palazzo, l'abbiamo riportato lì anche al suo palazzo. Bene, bene. Allora per concludere, io ho scelto, questa volta io non ho voluto chiedere a... Hai scelto tu? Sì, ho scelto io perché ho detto sul mare magnum di testi teatrali è meglio non mettere in difficoltà, e allora una brevissima frase di un pittore, e parlavo prima dell'arte moderna e contemporanea, che deve essere comunque ben salda a dei principi base. Allora questa è una frase di Hans Hartung, lo scopo della vita è lo sviluppo di noi stessi, io voglio rimanere libero di spirito, d'azione, non lasciarmi rinchiudere né dagli altri né da me stesso. Hans Hartung. Bella, eh? Direi che è la giusta ciliegina sulla torta. Allora, stasera a Dasti, poi a Torino. Torino fino al 10 giugno invece c'è il sogno della notte di mezz'estate. No, no, lo vengo a vedere. Quando c'è esattamente? Fino al 10 giugno? Tutte le sere fino al 10 giugno. Tutte le sere fino al 10 giugno. Bene, bene, allora andiamo a vederlo, eh? Perché io devo un po', dopo quello che mi ha detto Malosti, bisogna un po' rileggere e riguardare questo spettacolo. Grazie a Dino Mascia, ci vediamo giovedì prossimo con L'Arte ci parla. Grazie a Walter Malosti, la vedremo direttamente sul palcoscenico. Noi finiamo qui nel nostro piccolo, torniamo domani dalle 8 fino alle 11 e mezza. Allunghiamo addirittura il primo giugno, eh? La festa di Quarta Rete, diciamo così. Grazie, grazie ancora, buona serata. Buona giornata, anzi, a tutti. Grazie a tutti.